Cena di San Valentino al bel sito Teleguetorri, info e prenotazioni 0825 67 00 01 A me interessava che i diritti dei femminelli venissero rispettati e questa è una cosa bella che a Montevergine ecco si è arrivati a un... come dire... possono entrare in chiesa, l'abbate li accoglie ecco, entro a certi limiti e a certe regole e a me questo interessava poi, ripeto, a Montevergine non dovrebbe più essere sotto le telecamere dovremmo lasciare ai femminelli questa giornata di riflessione, di spiritualità e quindi ogni anno questa... io vedo pure sempre meno femminelli perché probabilmente nemmeno a loro interessa lo show che andava bene quando bisognava accendere i riflettori su quel problema ma oggi mi sembra, ecco, sarebbe meglio un po' tirarsi tutti in disparte Di questo show che dice lei fa parte anche Vladimir Luxury Io l'anno scorso l'avevo invitata a non venire ma non per cattiverio proprio per fare questo passo indietro sicuramente lei ha più diritto di me di andarci però, ripeto, le persone che hanno una visibilità e lei ne ha molta più di me, insomma, ovviamente rischiano di, come dire, portare in secondo piano insomma i femminelli e nemmeno più i diritti perché adesso a Montevergine non c'è più bisogno di questo ma c'è bisogno appunto di un clima di preghiera Quello che è successo all'ospedaletto l'attacco con quelle scritte quello sfregio al cartellone contro l'omofobia come era accorto, come lo interpreta E' il talebanesimo cioè questi che scrivono queste cose in fondo sono un po' come l'Isis anche se, come dire, centomila scritte sui cartelli non un attentato però sotto sotto ecco, c'è la voglia di imporre il proprio modo di pensare l'Isis lo fa con le bombe, purtroppo con gli attentati questi lo fanno in questo modo ugualmente vigliacco per fortuna incruento, insomma ma sotto c'è la stessa sottocultura grazie a tutti